e siamo alla seconda del convegno di scena i tre anni per doveri di cronaca bisogna dire che il training del cavallo di Maisto di prima è quello sempre più in voga di Ciro Di Nardo e poi l'allievo di Gaetano Di Nardo è stato tolto dall'ordine d'arrivo per aver danneggiato un concorrente va via la macchina in velocità si lotta per il comando con all'esterno proprio Teggiano netto favorito nei confronti di Tegla di Bielle scende così Tegla in seconda posizione a precedere via via tutti gli altri tredici e due il lancio sullo slancio gioco di parole l'allievo di Di Nardo prende netto vantaggio ma siamo all'inizio della retta davanti alle tribune e solo dopo quattrocento metri di gara che se ne vanno in ventinove e uno e così la liva di Minopoli Tina del Ronco si sistema secondamente a problemini quelli di Maisto che poi galoppa poi l'uno di Tatus e il sette di Tabuz va a completare i seicento Teggiano da leader in quaranta quattro e nove tutto sommato da un e quindici velocità più che buona e per lì in esterno anche Ted Pine SM si va al completamento del mezzomiglio iniziale mezzomiglio se ne va nell'ordine dell'uno uno e due sedici e tre di frazione si affaccia la lieve di Gallucci Ted Pine Teggiano al comando viene via il targato SM di Gallucci Teggiano deve allungare completa il chilometro in sedici e quattro quindici e due di frazione e Ted Pine si fa minaccioso viene via la grande anche Tabada Griff per anticipare top model par curva finale i due prendono vantaggio quattordici e mezzo fanno uno trenta e nove i tre quarti di miglio controlla ancora Teggiano ma non dà respiro l'alivo di Gallucci si eliminato quella di Minopoli Tina del Ronco retta d'arrivo Teggiano tenta lo stacco Teggiano al comando prende mezza di vantaggio si ripropone Gallucci Teggiano controlla poi viene via bene top model ultima a fondere ragioniere che sul palo stampa l'avversario terzo il numero nove top model par due uno e due uno quindici e uno e quindici e otto rimane Maiden come vincitore questo Teggiano sempre belle corse si dà da fare ma la vittoria non arriva sarà per il duemila e sedici oggi è trentuno dicembre duemila e quindici insomma Ted Pine la costruisce la vince fino in fondo con Romeo Gallucci nove e novantadue in chiusura il training dei chiattoni animati tanto per cambiare linea lo studio e novantadue in chiusura il